la registrazione. Perfetto, è partita, quindi quando vuoi. Bene, allora io farò una brevissima presentazione, intanto salutando e ringraziando tutti i presenti, a cominciare da Alessandro Stanziani e Michele Alacevic, che ringrazio di cuore per aver accettato l'invito della Cisco a discutere della parola classe e poi ringrazio anche tutti i partecipanti che ci seguiranno e quindi li diciamo invitiamo già da adesso, se vorranno, lo dico subito, se vorranno porre delle domande, lo potranno fare in modalità diciamo mista, vale a dire sia attraverso la chat ma anche in video, quindi c'è la possibilità, alzano la mano, di collegarsi, di mostrarsi e quindi di partecipare anche in modo più diretto alla nostra discussione che speriamo, che speriamo vi pace. E allora il seminario di, o tutti siete avvisati che la riunione viene registrata perché poi sarà pubblicata sul canale YouTube della Cisco. Il seminario di oggi quindi è la conclusione di un brevissimo ciclo dedicato alle parole della storia e il seminario di oggi dedicato alla parola classe, come se sapete, e dunque per prima cosa presento davvero con pochissime parole i nostri, i nostri relatori, Alessandro Stanziani e Michele Alacevic, sono, che ringrazio di nuovo, sono due persone esperte di storia globale prima di tutto, quindi sicuramente questo è stata una prima ragione per invitarlo. Alessandro Stanziani, direttore di studi all'Ecole des Etudes en Sciences Sociales di Parigi, si occupa, insomma sono tutte e due persone note, quindi dirò davvero pochissime cose, si è occupato di storia dei mercati, della concorrenza, delle forme di regolazione o regolamentazione, questo lo potrebbe dire soltanto lui, di storia del lavoro, in particolare di storia del lavoro forzato e la sua ultima monografia è Le Metamorphose du travail contraint, une histoire globale du 18e et 19e siècle pubblicato dalle presse des Sciences Po nel 2020. Michele Alacevic è invece professore di storia del pensiero economico e di storia economica all'Università di Bologna, peraltro insomma sono due relatori che hanno una formazione economica e quindi anche questo insomma non è casuale il fatto di averli messi a confronto su una parola come quella classe e Michele è occupato anche lui di storia economica a livello globale, di storia della diseguaglianza della politica economica della Banca Mondiale e la sua ultima biografia è una biografia intellettuale di Albert Hirschman e peraltro se non se non erro è proprio uscita da pochissimo, è nel mese di aprile per Calambia University Press. Quindi allora ancora due parole, malgrado Alessandro e Michele abbiano il compito di affrontare la questione che abbiamo loro proposto usando il lessico, sicuramente il lessico specialistico della disciplina o delle discipline a cui fanno riferimento, ci aiuteranno credo a riportare alla storia in generale l'unità sintattica classe. È un po' anche una scommessa, per certi versi è una parola un po' desueta, può sembrare anacronistica e quindi abbiamo dato alcune istruzioni di massima a tutti i relatori di questi webinar, vale dire affrontare il problema della trasformazione di significato della parola nella narrazione storiografica della propria sfera, in modo però da metterla a confronto anche con le narrazioni di altre sfere, potrebbe essere quella sociologica, quella giuridica, insomma questo lo vedremo, senza avere ovviamente una pretesa di una narrazione e di sintesi. E poi insomma, io spero che gli ascoltatori, insomma i colleghi, gli amici che ci stanno seguendo avranno a loro volta la possibilità di, diciamo, intanto di porsi il problema della parola classe nelle loro rispettive sfere di competenza e al tempo stesso con la consapevolezza che c'è una grande difficoltà di trasferimento dei concetti che sono professionalmente marcati, anche della laboriosità, direi, che comporta l'integrazione della propria disciplina delle parole che sono ricorrenti in un'altra. A volte i significati sono intraducibili, spesso nel passaggio restano in uno stato indefinito, insomma vediamo questa sperimentazione, io sono davvero molto molto curiosa, insomma di ascoltare Alessandro prima con la sua relazione e Michele con la sua discussione, quindi lascio subito la parola a Sandro. Grazie, grazie ancora per l'intervento e a tutti i presenti grazie per essere con noi. Ciao, grazie Antonella. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, anche se ormai sono un po' non relegato, ma sono un po' finito all'altro lato delle Alpi, quindi mi scuso innanzitutto se il mio italiano ogni tanto può essere preda di francesismi, ultimamente lo sto recuperando, spero di non fare il napoletano emigrato, quindi dovrei tentare di parlare in un italiano più o meno comprensibile. Poi mi scuso con Michele innanzitutto, ma anche con voi, non ho dato un paper in anticipo. Sono stato preso un po', come dice, di corto dal suggerimento di Antonella che nello stesso tempo mi ha veramente interpellato per il motivo seguente. In fondo ho lavorato molto su temi vicino alla classe e ho sempre usato molto poco il termine classe per una serie di motivi che cercherò di spiegare e per questa stessa ragione una volta la mia prima reazione è stata, e adesso con classe come me la cavo, però poi è diventato molto divertente, da cui qualcosa che mi ha fatto molto piacere fare, ma anche l'incompiutezza del ragionamento stesso. Allora, quello che pensavo di fare è la cosa seguente. Allora, per quelli che non lo sanno, mi sono occupato di fatto di campi abbastanza diversi. Mi riferirò in particolar modo a problemi legati al lavoro, in particolar modo, ma anche a gruppi sociali legati a, possono essere contadini, lavoratori, marinai. Il vero problema è che mi sono occupato di questi attori in buona parte, diciamo, a cavallo tra 700 e 800, quindi già il 900 resta fuori, e questa è una cosa che dico subito. Nel 900 credo che la pertinenza, anche l'uso del termine classe, cambi radicalmente rispetto a quello che io racconto, quindi questo lo dico subito, quindi sono tra 700 e 800, e poi per campi, quando si dice storia globale, in realtà non ho mai fatto storia mondiale, mi baso su alcuni pezzi del mondo su cui ho lavorato, lo spiego subito, e sono alcune zone della Francia e dell'Inghilterra, alcune zone della Russia e alcune zone dell'Oceano Indiano, quindi sono zone molto diverse, per le quali però conosco gli archivi, ma per esempio avrei difficoltà a discutere di questi stessi temi per le Americhe o per gli Stati Uniti, o anche per tutto il mondo islamico, quindi sicuramente non tenterò di avere un'idea globale, nel senso di mondiale, per me il globale è soprattutto un tentativo di conoscere alcune, come si chiamano, area studies o aree culturali, senza rimanerci prigioniero, ma senza distruggerle allo stesso tempo, ed è questa la cosa che mi interessa di più intorno al concetto di classe o l'identificazione di gruppi sociali, perché quando si cambia in parte di periodo, ma soprattutto di quelle che si chiamano aree culturali, non c'è solo un problema di traduzione, esiste un problema di equivalenze tra categorie e nozioni, non solo per noi oggi, quando parliamo per esempio di classi sociali in India comparate alla Russia ad esempio, ma quello che mi interessa è come gli attori dell'epoca stessa si ponevano a questo problema, quindi lo affronterò piuttosto in questa chiave che magari qualcuno definirebbe non lo so, internalista, proprio agli attori, resta però il problema che proprio per la storia sociale, ed è questo quello che mi interessa di più, la tensione tra le cosiddette nozioni e categorie degli attori e le nozioni che vengono da altri campi, per esempio dalle scienze sociali, è molto presente ed è una delle tensioni più importanti, non solo quando si discute di storicizzare le scienze sociali, ma questo diventa ancora più complicato quando si vuole storicizzare al di fuori delle aree europee, quando ci sono concetti nati in Europa magari nell'Ottocento e ci si chiede cosa succede in una zona particolare dell'Oceano Indiano ai primi dell'Ottocento, quando magari questa stessa nozione può o non può essere utilizzata dagli attori dell'epoca, quindi sono un po' queste tensioni che mi interessano. Allora, quello che pensavo di fare è la cosa seguente, molto brevemente due o tre riferimenti ai soliti sospetti, sicuramente c'è Marx, ma ce ne sono anche qualcun altro, però poi volevo usare molto di più il materiale empirico per mostrare come i miei attori si riferivano o potevano usare o non usare queste categorie. Allora, un'osservazione molto breve. Dal Settecento in realtà i fisiocrati usano il termine classe in un senso molto diverso da quello che userà Marx. serve a distinguere quelle che loro chiamano classi sociali produttive e classi improduttive con un'attenzione poi in particolar modo al lavoro, alla funzione economica, a sua volta distinta in produttive e improduttive. Quindi il termine classe Settecento francese, i fisiocrati, in qualche modo è un termine che serve ad opporre il lavoro produttivo a quello improduttivo, ma anche ad opporre diversi gruppi sociali a quelli che sono identificati come gli aristocratici, classe improduttiva. Allora, la cosa è interessante per un doppice motivo. Primo perché bisogna classificare insieme alle classi il tipo di lavoro, lavoro produttivo e lavoro improduttivo. E secondo c'è un qualcosa che spesso non è sottolineato, ma una certa continuità tra il modo in cui si pensa la classe produttiva e non produttiva in una società post-ancien regime e il modo in cui gli ordini di anzien regime sono pensati. Mi spiego. Le classi che identifica che ne in qualche modo sono molto vicine agli ordini di anzien regime. ne sono in qualche modo tributari, proprio perché lo si vuole superare. E c'è un secondo elemento che li accomuna, secondo me molto più importante, è quello dell'immobilità delle classi, viste in qualche modo come gruppi chiusi, che è esattamente come che ne vedevano gli ordini di anzien regime. Ed è lì un'ambiguità, dal mio punto di vista, lo lancio lì per il dibattito, resterà praticamente fino ai nostri giorni questa tensione tra ordine statutario, giuridico e ordine per classi di tipo socio-economico. All'apparenza molto diversa e di fatto si rinviano l'uno all'altro. Ed è proprio questa tensione tra classi istituzionali e classi socio-economiche che imposerà al centro della mia relazione. Quindi è già presente in K&A. Nel caso dei classici inglesi, come sono detti poi di Marx, dell'economia politica inglese e in seguito di Marx, c'è ancora questa differenza tra lavoro produttivo e improduttivo. C'è di nuovo questa associazione tra classe e funzione economica, è una cosa molto importante, non si prende in considerazione, ad esempio, che un imprenditore possa essere anche consumatore, ma vengono analizzati in funzione della loro attività economica, come se fossero due persone diverse. Ed è qualcosa molto importante, così come è importante l'assenza totale dell'aspetto istituzionale o giuridico. Non c'è assolutamente in Riccardo, in Smith e negli altri, non c'è questo aspetto istituzionale che invece era presente in altri autori, penso a Bentham, ed è altrettanto assente in Marx. Nel caso di Marx è proprio la definizione delle classi a partire dalle attività economiche, ma assolutamente non dalle qualificazioni giuridiche, che permette di identificare la classe, cioè questa opposizione tra status giuridico e status economico, ci ritorneremo, che consente a Marx di identificare, ad esempio, la coercizione o l'estrazione del lavoro per il proletario come forma puramente economica in opposizione alla cosiddetta coercizione extraeconomica. Sono del tutto opposte e del tutto separate, nel caso di Marx. Ed è un cambiamento importante rispetto al Settecento, ma è anche un cambiamento altro che lo differenzia, per esempio, dalla, e la finisco di queste definizioni un po' generali del pensiero, eccetera, che lo differenzia anche dai fisiocratici per l'interesse molto forte nelle classificazioni positivistiche alla Darwin. In qualche modo il determinismo è una cosa molto nota, il determinismo storico di Marx con l'identificazione delle classi, contadini che si trasformano necessariamente o in proletari o in imprenditori, la fine dei contadini, è in qualche modo influenzata dalle classificazioni scientifiche, albero della vita, eccetera. Marx era un grande fanatico di Darwin e delle classificazioni naturaliste, ma c'è anche qualcos'altro, è il modo in cui Marx tenta di espandere questa sua nozione, queste classificazioni che devono essere universali agli altri mondi. Allora, sapete tutti che Marx, quando si riferisce agli altri mondi, in realtà se ne è occupato solo di due, l'India e la Russia. Con l'India non ha affatto dubbi, negli anni 50, quando scrive sull'India, trova che gli inglesi con la loro presenza potranno infine modernizzare l'India, non ha nessun dubbio che il colonialismo inglese sia qualcosa di benefico. Cambia un po' idea dopo la rivolta dei Seapois nel 57-58, ma in realtà è una cosa molto più nota, cambia, è molto più dubitativo sull'evoluzionismo universale quando ha a che fare con la Russia. Ci sono varie edizioni di Das Capital, Marx cambia in particolare a mio modo nell'edizione francese e tenta di andare fuori dal determinismo così come lo si conosce, che non c'è un sistema cosiddetto di produzione asiatica, che tutti i paesi evolvono nello stesso modo. L'edizione francese è molto contestata da Engels che ritiene che l'edizione tedesca sia la più importante e nella quale effettivamente l'universalismo viene preservato. Però sappiamo anche, ed è una cosa che Antonella, Alberto, gli altri conoscono benissimo, nei dibattiti con i russi che diciamo il vecchio Marx solleva qualche dubbio sul sentiero universale, sul determinismo storico, sulla trasformazione di tutti i contadini in proletari oppure in qualche capitalista e con la scomparsa dei contadini. Però ecco, è un qualcosa che emerge in Marx solo al confronto con la Russia ed emerge solo negli ultimi anni. Quello che mi interessa è la cosa seguente, le difficoltà di Marx persistono in realtà in buona parte del pensiero marxista, non è un caso che le critiche, penso ai subaltern studies in particolar modo, ma anche prima dei subaltern studies le critiche di Said a Marx, sono quelle di un eurocentrismo proprio a partire dal confronto tra schemi di Marx, classi in particolar modo, e la situazione indiana è un qualcosa che è molto presente nel pensiero indiano, in particolar modo l'idea stessa di Chakrabarti, molti conoscono la provincializzazione dell'Europa, in realtà ci sono capitoli e lavori prima della provincializzazione dell'Europa che portano proprio sulla nozione di working class in India e nel pensiero marxista, con l'accusa di Marx eurocentrico e seguito dai marxisti indiani che avrebbero preteso che le classi e la scomparsa dei contadini fossero una categoria, fossero una dinamica universale. In qualche modo il subalterno alla Chakrabarti parte proprio dalla critica della nozione di classe di Marx, non è qualcosa che in qualche modo si è persa nelle discussioni poi sul global e col subalterno. Viceversa un ultimo punto che forse può interessare Michele è il modo di pensare alle classi nel pensiero weberiano e post-weberiano, innanzitutto perché rispetto a Marx si mettono dentro molte più variabili, c'è la religione, c'è l'attività economica, c'è la cultura, c'è il diritto, c'è lo Stato, ci sono più variabili e non solo la funzione economica, con una molteplicità dell'identificazione delle classi che è molto diversa rispetto a quella del pensiero marxista. Un strumento molto potente per i confronti, molto diffuso nel Novecento, in particolar modo quando si discute, penso soprattutto alla metà del Novecento, sui problemi di ritardo, di confronti, di sottosviluppo, in cui i post-weberiani, spesso economisti dello sviluppo, storici economico, usano lo schema di Weber per pensare le trasformazioni del cosiddetto terzo mondo all'epoca e c'è lì, ci sono lì i confronti con marxisti e con neopopulisti sugli stessi dibattiti che avevano avuto luogo in realtà a fine Ottocento o primi del Novecento ed è in sé una cosa interessante, questo desiderio di traslazione delle categorie sociologiche al di là del tempo e dello spazio. Per molti autori degli anni Cinquanta e Sessanta prendere come riferimento la Russia di fine Ottocento, primi Novecento, Hirschman o Gershank, non gli altri, tutti ci pensano, è del tutto legittimo. Non c'è nessun problema a prendere come esempio quello che succedeva in Russia a fine Ottocento, primi Novecento per discutere quello che succederà in India, in Ghana o in Thailand. Ed è in sé un'idea con forze e con limiti. Le forze e i limiti sono le seguenti. Il primo è si possono applicare le categorie inventate a fine Ottocento per discutere dell'Europa, non solo alla Russia ma ormai anche alla Thailandia del 1960. Tra qui la nozione in particolare modo di classe. Con un'attenzione poi particolare ci ritornerò ai contadini. I contadini sono un elemento cruciale in tutti questi dibattiti, molto più ai cosiddetti proletari. Quindi tutto ruota intorno alla trasformazione dei contadini. Ma soprattutto nel caso dei neo-webberiani il problema si pone di quali variabili prendo in considerazione per identificare una classe. Weber ne aveva messe più di una. Quello che mi interessa dire è che in realtà anche per quelli che vogliono rovesciare il cosiddetto argomento eurocentrico, in realtà conservano come dico la lista della spesa di Max Weber, per dirla rapidamente, per tradurre in termini accessibili. In questi dibattiti se Max Weber diceva che ad esempio in Europa c'era una borghesia e l'assenza della borghesia in Cina spiegava il ritardo della Cina, per gli anti-weberiani, secondo me molto weberiani, penso fino a pomeranzi che rovescia le tesi ma non lo schema di Weber, bisogna dimostrare semplicemente che la lista della spesa identificata da Weber non solo non era assente ma era del tutto presente e confermata in Cina. Però la lista è lì. Per identificare il progresso, il ritardo di un paese in termini anche di classi, bisogna conservare la lista di Weber ed è quello il punto perché la lista di Weber è l'unica possibile per discutere di queste cose. Quindi quello che mi interessa è che siamo arrivati fino ai nostri giorni con critiche abbastanza importanti, con la crisi, la conoscete meglio di me, delle classi soprattutto in termini marxisti, soprattutto a partire dagli anni 90, soprattutto con le discussioni in qualche modo post-weberiani alla Giddens, le classi sono scomparse, i proletari, non sono più proletari, sono diventati classe media, ci sono una marea di lavori in cui, per esempio, soprattutto in campo anglosassone non si parla più di capitalisti e di proletari, non si parla più di lavoratori, si parla per esempio della repubblica dei consumatori, che è una traslazione significativa della fine anni 90 e primi anni 2000, in cui al posto delle classi abbiamo per esempio i consumatori, una repubblica di consumatori. Ma c'è anche qualcosa di più, la moltiplicazione appunto, non solo alla Weber ma alla Giddens, delle caratteristiche di un individuo che vadano al di là, per esempio, del rapporto di lavoro e quindi conoscete tutti l'argomento, l'identità sociale e quindi la classe in quanto tali non esistono ma si è nello stesso tempo commerciante, affittuario, membro di un partito, di un club di sport e via dicendo e quindi bisogna tenere in conto tutti questi elementi, con un elemento che però con un fattore che scompare ed è quello della gerarchia tra questi differenti aspetti e sulla quale poi ritornerò. In altri termini, se è vero che ciascuno di noi o anche quello che prima era considerato un proletario diventa un'altra cosa, fatto di 300 identità sociali con differenti rapporti eccetera, il problema si pone se per esempio posso fattare una casa senza il lavoro o se esiste un'altra gerarchia o quale gerarchia tra questi differenti aspetti ed è quello che mi interessa di più. In qualche modo la classe sta ritornando, non ci ritorneremo nella storia globale del lavoro, nei nostri giorni, quando numerosi amici e colleghi trovano, ad esempio, nelle insurrezioni, nelle rivolte, nelle resistenze dei lavoratori, non solo nel passato ma anche nei nostri giorni in India, in America Latina, in Africa, un ritorno alla classe globale. Secondo me hanno torto però va bene, bisognerà poi discuterne. Diciamo c'è un ritorno all'analisi in termini di classe ma in chiave globale, in particolar modo con gli sviluppi dell'economia del cosiddetto Global South. Quindi questo dal punto di vista, diciamo, degli attrezzi metodologici a cui possiamo avere ricorsi. Quello in dettaglio, nei vari approcci c'è qualcosa che a me interessa ed è l'opposizione che viene fatta, diciamo la distinzione, la relazione tra gruppo-classe da un punto di vista socio-economico e la classificazione degli attori da un punto di vista giuridico. Mi spiego ma io avevo provato a pubblicare un articolo credo 2008-2009 su questa tensione nel Journal of Social History, quello pubblicato ad Amsterdam, proprio sulla tensione tra contratto e status, status giuridico, insisto, e non solo sociale, che è quello che evocavo per i fisiocratici. È qualcosa di interessante, perché? Perché in genere noi o tutti tendiamo ad opporre la classificazione in classi o per contratto o per economia a delle classificazioni dette di anzian regime, fatte per ordini, per status giuridico. Lei si oppone, anzian regime dopo per l'Europa, lei si oppone Europa da un lato e poi India con le caste, l'Islam o tanti altri regimi, la Russia azzerista per esempio con le Soslovie, che sarebbero regimi in cui le classificazioni sociali sono sottoposte ad una classificazione giuridica precedente. Da quello che posso vedere, che proverò a dire nei minuti poi che mi restano, è che di fatto nei campi che ho studiato l'attenzione e la coesistenza tra contratto e status, società atomizzata, classe e status giuridico, non è mai in sequenza, ma è costantemente in coesistenza. In altri termini, nel Settecento francese le differenze per ordini di anzian regime erano molto porose, c'erano contratti allo stesso tempo, c'erano società mercantili senza che l'una si opponesse all'altra. È vero anche per le Soslovie in Russia, ormai ci sono moltissimi studi che mostrano la porosità, l'evoluzione in relazione al mercato e quindi l'interrelazione tra classificazioni giuridiche e classificazioni socio-economiche. Ma questo è vero anche per l'Ottocento, contrariamente per l'Ottocento liberale, che viene spesso presentato come un mondo di società atomizzata, puramente contrattuale, mercantilizzata. In fondo anche Marx e tutti gli economisti l'hanno mista in questi termini. Il problema è che, contrariamente a questa storia e a come anche i liberali dipingevano la propria società e i socialisti la accettavano. Esisteva uno status, non è affatto vero che le distinzioni per status muoiono con la rivoluzione francese. I commercianti hanno uno status giuridico a parte, le donne non possono votare, molti lavoratori e operai non hanno diritto di voto e soprattutto quello che mi interessa è dimostrare in realtà cosa fosse un lavoratore nell'Ottocento liberale, innanzitutto in Inghilterra e in Francia. Le differenze di status, insisto, di status statutari prima ancora di firmare un contratto erano fondamentali. Erano fondamentali perché? Perché tutti i lavoratori inglesi avevano dei contratti, per così dire, impliciti o espliciti, a volte scritti, quasi sempre orali, ma ricadevano in due categorie che non erano affatto quelle di imprenditori capitalisti da un lato e proletari dall'altro, ma molto semplicemente si chiamavano master and servants e si chiamavano master and servants con diritti ed obblighi profondamente diversi da un punto di vista statutario che si associa all'anziano regime che era perfettamente esistente nell'Inghilterra liberale dell'Ottocento. I lavoratori servants, ad esempio, non avevano nessun diritto di denunciare per violenza il master. Non potevano allontanarsi senza permesso, non potevano in alcuni casi gli apprendisti spostarsi o anche sposarsi senza permesso. C'era una serie di vincoli che ricadevano unicamente, da un punto di vista giuridico, sui servants. In altri termini, Marx opponeva classi e aspetti giuridici e parlava, ancora oggi lo fanno molti ispirati da Marx, dicendo società liberale uguale uguaglianza formale di fronte alla legge e diseguaglianza sociale. Non sono d'accordo perché nelle società, compresa quella dell'Ottocento, le diseguaglianze erano anche formali. In altri termini non c'era un'opposizione tra classe, ordine giuridico, tra estrazione, come diceva Marx, del plus valore economico rispetto alla coercizione, ma le due coesistevano perfettamente. Allora, in questo mondo succede qualcosa di molto importante. Succede che se prendiamo dei dati ultimi appena usciti in storia economica molto quantitativa, molto dettagliata, si scopre una cosa molto interessante. Michele conosce sicuramente gli autori, possono essere Broadberry, i veri quantitativisti. Si stupiscono di una cosa molto strana, questo pochissimi anni o sono. Dicono che nel 1866 ci devono essere errori nei registri inglesi perché 66% dei lavoratori che dovrebbero essere proletari hanno una doppia residenza e continuano a spostarsi tra la città e la campagna. Nel 1866 in Inghilterra due terzi della popolazione dei lavoratori. C'è qualcosa che non funziona perché dovrebbero essere proletari da vari decenni e non dovrebbero andare avanti e indietro e soprattutto non dovrebbero avere la doppia residenza. Il problema è che di fatto ormai ci sono molti dati e molti lavori, li ho fatti anch'io in alcune regioni inglesi, in cui emerge una cosa molto semplice. La cosa è la seguente. La maggior parte delle famose recinzioni che sarebbero all'origine della proletarizzazione, questo è presente in Marx, è presente in Polani, è presente in tutti i lavori di sinistra, di fatto ha luogo molto poco nel periodo identificato da Polani, Spinam, Land eccetera. Ci sono privatizzazioni delle terre nel Seicento e ci sono privatizzazioni delle terre a metà dell'Ottocento. Quindi prima e dopo di Spinam Land e molto poco in realtà durante il Settecento. Con una conseguenza importante che di fatto i lavoratori inglesi fino alla metà dell'Ottocento continuano a fare quello che scoprono adesso gli storici economici, cioè continuano ad essere degli operai contadini. Molte imprese fermano l'estate e questa cosa cambia unicamente alla fine degli anni Sessanta-Settanta con qualcosa di diverso che si chiama Seconda Rivoluzione Industriale, con un'intensificazione in capitale per la prima volta e con una proletarizzazione che però è molto tardiva. Arriva nell'ultimo quarto dell'Ottocento, ma non prima. Ciò significa che la prima rivoluzione industriale, rispetto a quello che dice Marx e tanti altri, si appoggia non sui proletari, ma si appoggia su dei servants che fanno andata e ritorno tra città e campagne e che non si sentono identificati né come contadini puri né come proletari puri, ad eccezione ovviamente dei minatori e di alcuni piccoli gruppi. È qualcosa che coesiste, andata e ritorno, ma che coesiste con una persistenza nello stato giuridico come fonte di diseguaglianza. Quindi il mio argomento molto semplice è che se studio l'Inghilterra mi ritrovo con dei servants con pochi diritti e con dei servants che sono allo stesso tempo operai contadini, che sono limitati nei propri diritti e con un mondo che di fatto cambia, cambia quando? Con il welfare state e con la seconda rivoluzione industriale. È lì che c'è una proletarizzazione, ma una proletarizzazione diversa da quella di Marx, perché ha luogo allo stesso tempo che i sindacati a cui stanno forse possono difendere molto di più lavoratori rispetto a prima. Quindi è una situazione del tutto diversa rispetto a quella presentata e da Marx e dai liberali. Questo è vero anche altrove. È vero in Francia, ho lavorato in particolar modo sui lavoratori agricoli. Per la Francia, dico solo due cose. Allora, per la Francia la differenza di status è soppressa con la rivoluzione, tranne per le donne. Questa è una cosa importante. Ci sono i master e i servants, ci sono le donne, ci sono gli uomini, però esiste anche un'altra cosa. Esiste una protezione giuridica dei lavoratori durante tutto l'Ottocento, mentre invece i sindacati sono vietati in Francia, più a lungo che in Inghilterra, quindi uno schema completamente diverso. E in Francia, si continua anche in Francia con gli operai contadini per buona parte dell'Ottocento, ma succede poi qualcosa di diverso a fine Ottocento, anche in Francia. Introducono i primi elementi di welfare, ma è un welfare molto ineguale. Il welfare è esteso e accordato ad alcuni lavoratori di grandi imprese sindacalizzate. Ne restano fuori le piccole imprese, gli agricoltori e gli artigiani. È un qualcosa di estremamente importante, perché in qualche modo c'è, dal mio punto di vista, una persistenza di operai contadini fino a fine Ottocento, con una trasformazione, quindi con una vera costituzione di classi, che esiste molto di più nel Novecento che non nell'Ottocento, per riassumere quello che ho detto. E da questo punto di vista mi ritrovo in realtà senza proletari, ma mi ritrovo anche senza contadini. Contadini, allora, i proletari sono quelli che sono scomparsi per primi nella storia sociale delle classi, perché dagli anni 90 non c'erano più i proletari, poi è crollato il muro e quindi i proletari non vanno bene. I borghesi, tranne, poi magari ci ritorniamo nelle discussioni, il libro ultimo sorprendente di storia globale, sulla global bourgeoisie, molto sorprendente perché c'è un ritorno nel termine borghesia, sul quale ritorneremo, però anche la borghesia era caduta in inquietudine. Invece c'è una fortuna da spiegare del termine contadino, è come se i contadini andassero al di là delle mode culturali e delle trasformazioni politiche. I proletari non ci stanno più, i borghesi non ci sono più, però i contadini sono sempre lì. Perché sono lì? Pensate al movimento altremondialista, onoglobal dei nostri giorni, ritrovano i contadini, campesinos globali, allora che non si parla più, mentre invece non si parla più di altri gruppi civili. E questa plasticità e uso del contadino come categoria sociale, che è in sé interessante, ed è un caso unico. Il modo in cui i contadini, in menzione magnifica, di gruppo, il modo in cui i contadini sono stati riciclati e possono riciclarsi rispetto agli altri gruppi sociali, è in sé un problema interessante per discutere delle classi. Quello che mi interessa è che quando ho studiato i contadini in situazioni diverse mi ritrovo molto poco con i proletari, mi ritrovo molto poco anche con i contadini ostili al mercato e via dicendo. Nei posti in cui l'ho studiato ritrovo un'altra cosa. A parte i contadini operai, questi dappertutto, che sia in Russia, che sia in Francia, che sia in Inghilterra, che sia in Italia, in Germania, poi lo vedremo anche altrove, sono le pluriattività che dominano. Su questo non c'è dubbio. Ma la storia dei contadini, se proprio bisogna farla, bisognerebbe tenere conto del fatto che i contadini dal Seicento in poi sono legati innanzitutto alla costituzione di soldati marinai su scala nazionale. Cioè non si può pensare alla coscrizione moderno, militare, senza pensare ai contadini. Il 90% sono contadini ed è la fine dei mercenari e l'arrivo dei contadini. I contadini sono innanzitutto soldati. La costruzione dello stato moderno passa per i contadini ed è qualcosa che nella storia dei contadini si perde. Si parla se diventano proprietari o no. I contadini sono soldati, ma il problema è che 600, 700, 800 soldati sono lavoratori. I soldati sono utilizzati non solo in Cina o in Russia, ma anche da inglesi e francesi, i marinai soldati, per cominciare a coltivare le terre strappate ai nomadi. Sono fatte da soldati contadini o da marinai i contadini. I russi e i cinesi usano soldati contadini per occupare le steppe, i francesi e inglesi usano contadini più o meno marinai, ci ritornerò tra un momento, per cominciare a coltivare le terre al di là dell'Atlantico sotto forma di costruzione estrema. Quindi i contadini sono innanzitutto pluriatività, secondo sono innanzitutto attività militare o paramilitare e non sono mai autosufficienti. In qualche modo la grande trasformazione dei contadini è qualcosa di molto tardivo. Se è vero quello che ho detto prima, che ci sono operaie contadini che dominano l'Occidente, in realtà dal mio punto di vista, seguendo questo schema, naturalmente sono pronto a debattere, però dal mio punto di vista è proprio la persistenza dell'operaio contadino fino alla seconda rivoluzione industriale, e quindi molto tardi, che ci consente di spiegare le tragedie del ventesimo secolo. Fascismo e comunismo sono legati proprio alla distruzione dei mondi aristocrazia nobiliare e contadini, ma che hanno luogo non con la rivoluzione francese. Da questo punto di vista sono molto vicino ad Arnomeyer, non qualcosa all'anzian regime che termina con la prima guerra mondiale, altrimenti non spiegheremmo le insurrezioni e il ruolo che hanno contadini e proprietari fondiari non a metà dell'Ottocento, ma dopo il 1914. È una grande trasformazione, uso il termine di Polani, ma non la sua cronologia, che ha luogo in questo periodo e non invece con Spinamland e gli altri a metà del Settecento. Per me la grande trasformazione ha luogo con la seconda rivoluzione industriale, con la distruzione di queste società fatte di pluriattività e con differenze giuridico-statitarie maggiori. Quindi, ultima cosa, perché sennò poi andiamo troppo per le lunghe, vedo che sono già le quattro, insomma mi fermo. Per i mondi non europei, dopo aver messo in discussione contadini e operai, per i mondi non europei vado molto più rapidamente, dico solo due parole perché alla fine ho passato anni a dire cos'è un servo o cos'è uno schiavo, cos'è un lavoratore. Lì diventa molto importante perché nelle mie aree, allora metto da parte un attimo la Russia, perché lì mi ritrovo con un'evoluzione in realtà del servaggio molto diversa rispetto a quella istituzionale. Quello che cerco di vedere è, se non esiste il proletario e non esiste il contadino, bisognerebbe rimettere in discussione, cosa che ho fatto, anche il modo in cui la categoria servo viene identificata, si evolve, è uguale per la categoria schiavo. Sul servo, magari discutiamo dopo perché ci ho passato anni, mi dico solo che l'identificazione è complicata, non è affatto, non coincide affatto col servo della gleba, il termine russo arriva anche molto tardi per definire il servaggio, arriva in realtà, che posto non è bravo, molto tardi, arriva negli anni 40 dell'Ottocento. Prima si parlava piuttosto di cristiani, piuttosto di contadini, con obblighi, doveri, che non coincidono con quelli del servo della gleba statutario. In altri termini, per la Russia anche c'era una sovrapposizione di elementi di status giuridico e di mercato, come in altri paesi, ma in modo più estrema. Lo vedo molto la Russia come una variazione estrema di un sistema, di quello che chiamava aristocrazia fondiaria capitalistica occidentale, che esiste anche in Francia e Inghilterra per buona parte del 700-800. La Russia ne è una variante estrema dal mio punto di vista, così come lo sono le colonie europee, dove francesi e inglesi, almeno per gli ambiti che ho studiato, usano gli stessi termini che in Inghilterra o in Francia, ad esempio i master e i servants, solo che i servants lì, e soprattutto dopo l'abolizione della schiavitù, sono di colore e quindi le ineguaglianze di status giuridiche e di potere contrattuale già molto forti, molto importanti in Inghilterra stessa, si radicalizzano a causa della razza all'El Maurice, a Mauritius o anche in India. Quindi dal mio punto di vista il modo in cui gli inglesi o i francesi pensano il lavoro e le gerarchie sociali al di fuori dell'Europa è una variante estrema di come le pensano in Europa stessa nell'Ottocento. E da questo punto di vista la vera biforcazione tra classi e altre forme di organizzazioni, tra Europa occidentale, mondi e altri, ci metto dentro anche la Russia, non ha affatto nuovo con la rivoluzione francese o con la rivoluzione industriale. La biforcazione dal mio punto di vista avviene nel Novecento, quando Francia, Angleterra, Italia, paesi occidentali creano un welfare, modificano i diritti e i domini dei vari attori, ci sono molti più diritti per esempio per i lavoratori, si identificano delle classi, quando invece al di fuori dell'Europa occidentale il welfare diventa un'altra cosa. Il welfare è escluso per esempio per tutti i lavoratori coloniali, proprio perché secondo i riformatori e anche i socialisti, i lavoratori coloniali, una volta eliminata la schiavitù, non sono pronti per diventare una vera classe e per questo motivo devono conservare degli obblighi di lavoro, dei diritti limitati, così come ne avevano avuto a lungo anche i lavoratori occidentali. Ed è questa biforcazione tra classi e altre forme di classificazione reali questa volta nel Novecento che separa i cosiddetti paesi avanzati da le loro colonie. Fino allora c'era stata una forma di estensione del modello europeo alle colonie, col Novecento diventa una forma di opposizione radicale che sarà alla base della decolonizzazione spesso violenta. L'impossibilità di applicare il welfare alle colonie è quello che unisce Francia e Inghilterra. Rifiuto di estendere il welfare ai mondi coloniali fino alla decolonizzazione. Rifiuto di estendere il welfare che arriva fino ai nostri giorni quando si parla ad esempio di proteggere il welfare contro l'arrivo dell'immigrante, qualcosa che unisce la destra e la sinistra e che viene proprio da questa frammentazione opposizione tra un'idea di classe fino anche superata in Occidente e una persistenza di altre forme della dipendenza al di fuori dei mondi più avanzati. Quindi va bene, mi fermo lì, magari discuteremo meglio dell'aspetto empirico dopo nella discussione. Grazie, grazie Sandro. Ebbene sì che tu ti fermi perché stai accumulando problemi e questioni che sono davvero saranno spero davvero oggetto di grande discussione. Peraltro insomma adesso do la parola a Michele ma anche tra i presenti ci sono sicuramente molte persone che saranno state sollecitate dalle cose molto molto ricche che ci hai detto. Davvero tantissimi punti da da porre alla discussione. Allora do subito la parola a Michele, anche Michele prenditi il tempo di cui hai bisogno insomma per entrare nel nel merito delle cose che Sandro che Sandro ce l'ha detto. Grazie. No figurarsi, grazie mille. Più che, cioè Sandro ha di sicuro accumulato problemi per la discussione ma soprattutto accumulato problemi per me perché dopo 40 minuti con tutti questi argomenti e questa esplosione del concetto dello strumento analitico di classe devo dire a me sembra mi sento insomma mi sembra un cubo di rubi che superiore alle tre dimensioni a questo punto devo dire la questa davvero questa esplosione del di questo concetto per analizzare in termini storici rapporti sociali o anche il cambiamento dei modelli produttivi, anche i rapporti fra diverse regioni nel mondo, fra diversi gruppi nelle specifiche regioni. E però dopo tutta questa, almeno così Sandro poi naturalmente mi correggerai perché sono sicuro di non aver capito, ma dopo tutta questa moltiplicazione o sfaccettatura o disaggregazione o dissoluzione in un certo senso della classe in una serie di altre categorie utilizzata o forse moltiplicazione, non so come dire, esiste ma a un certo punto mi è scomparsa dagli occhi che cosa sia davvero una classe o come la possiamo definire. Tu hai concluso dicendo una cosa che mi è piuttosto chiara, dici dopo la decolonizzazione i lavoratori delle regioni che erano state colonie fino a pochi anni prima i lavoratori non sono pronti per diventare classe e boom, rientra questo concetto come se noi a quel punto lo potessimo capire, ma dopo tutto quello che ci hai fatto vedere in questa cavalcata, io mi sono sentito un po' disorientato e devo dire che io ho provato a pensarci mentre tu ci lanciavi spunti per vederne tutta questa complessità, io stavo cercando di fare un esercizio invece di mantenermi ancorato a una roccia, a un piccolo scoglio per non perdermi nel mare delle cose, delle tante cose che stavi dicendo. E ho utilizzato una questione che hai sottolineato più volte, soprattutto all'inizio della tua esposizione, che è il problema delle equivalenze. Cioè noi utilizziamo delle categorie per cercare di avvicinarci a una comprensione di ciò che pensiamo, sia più o meno la realtà, un'interpretazione della realtà di mondi che conosciamo, poi di mondi che non conosciamo e poi di regioni ancora più lontane e poi tra periodi diversi e spesso succede che il nostro vocabolario sia, anzi questo è un dato di fatto, il nostro vocabolario è più limitato delle realtà che cerchiamo di affrontare e quindi le traduzioni già, come dicevi, sono un problema e soprattutto se iniziamo a guardare alle reali equivalenze di significato. E poi anche molto interessante quella cosa che notavi, nel problema dell'equivalenza c'è l'utilizzo delle categorie da parte degli scienziati sociali e poi c'è l'autopercezione degli attori sociali che possono condividere o ascoltare o entrare in contatto con ciò che lo scienziato sociale dice o non dice oppure possono anche mandarlo a pedalare da altre parti perché non è necessariamente utile. Allora, in queste analisi io stavo pensando appunto a questo problema dell'equivalenza e della traslazione delle categorie in diverse epoche. Tu per esempio facevi riferimento a Gershon, Irshman o altri che hanno utilizzato categorie o hanno utilizzato diciamo l'Europa, le categorie proprie dell'Europa per analizzare altre regioni e mi sembra che trovassi in parte discutibile questo modo, anche se non ne sono certo, ma al di là di questo, quegli studiosi, Gershon, che tra l'altro arrivava dalla Russia e poi ha studiato ma già da adulto negli Stati Uniti, Irshman che arrivava dalla Germania e da adulto è arrivato e hanno sempre mantenuto il loro very thick accent, applicavano categorie ai processi di sviluppo capitalistico, diciamo, più che allo sviluppo delle classi sociali e devo dire che a me è sempre sembrato un esercizio più che legittimo, tanto più che Gershon applicava quelle categorie per dimostrare come diverse regioni seguono diversi sentieri di sviluppo, non per fare una cosa poi come Walt Rostow semmai ha proposto, una lettura più per stadi uguali a se stessi a prescindere dalla regione. Ed erano molto, le utilizzavano in maniera molto malleabile, ma in quanto a un'analisi delle classi sociali, Gershon, direi l'unica cosa che ha scritto su questo è stato più che altro la sua tesi di dottorato sui Junker nella Germania, nei territori in Germania, insomma. Dopodiché la questione è caduta e mi sembra invece che chi ha applicato i concetti di classe, proletariato, sottoproletariato, borghesia, siano stati gli studiosi più legati alle teorie della dipendenza, quindi più sociologi con una forte impronta formazione storica. Cioè Furtado, che va in esilio dal Brasile, viene lì a Parigi, studia con Brodelle e cerca di spiegare lo sviluppo del proprio paese d'origine con una forte impronta storico-sociologica. E anche lì mi è sembrato, tutte le volte che li ho letti e riletti, un esercizio molto ben fatto, oltre che legittimo, molto sofisticato nella capacità proprio di utilizzare questi strumenti. Poi forse meno quando arrivavano a... quando semplificavano, prendevano la scorciatoia e dicevano hai detto tutto questo? Beh, bisogna fare la rivoluzione. E quella era la... Però le analisi storico-sociologiche che portavano avanti, utilizzando categorie chiaramente europee, le trovavo davvero, come dire, un problema di equivalenza tutto sommato ben risolto, forse anche perché si applicavano a paesi che con l'Europa avevano un forte legame, perché avendo sterminato i nativi del continente latinoamericano, oltre che quello nordamericano, le popolazioni di quei paesi comunque avevano portato con sé molto dell'Europa. Quindi forse anche quello può essere servito... non lo so, ma insomma comunque a me sembra che quelle analisi in cui si cerca di ricostruire, per esempio, i caratteri della debolezza della borghesia latinoamericana, dello sviluppo bloccato, dello sviluppo del sottosviluppo, anche nel vocabolario che utilizzo, siano ancora piuttosto utili. e trovo, e anche qui trovo, continuo a trovare utile il concetto di classe, i rapporti di classe, eppure nel Novecento, eppure in paesi invece dell'Asia orientale, diciamo nella seconda metà del Novecento soprattutto, forse perché è un periodo che conosco meglio. Ora tu avevi, a un certo punto hai detto, diciamo, una definizione abbastanza standard che riguarda la formazione di classi o di identità di classe a che fare col fatto che ci si trova in Europa in situazioni di uguaglianza formale e di disuguaglianza sostanziale. E questa è una differenza con altre regioni. Dimmi anche lì se ho capito bene o ho capito male. Interrompimi perché sennò diventa inutile. Allora, io stavo pensando questo, però in realtà ha avuto luogo anche nei processi di sviluppo economico, per esempio delle tigri asiatiche. Cioè, lì non c'era uguaglianza formale. Le tigri asiatiche, che sono state considerate un esempio di grande successo del liberismo, dell'apertura ai mercati come motore dello sviluppo, in realtà sono, non sono io che lo dico, ormai chi sostiene il contrario è davvero rimasto molto indietro con la letteratura su queste cose. Sono esempi di capitalismo di Stato che comprime i diritti dei lavoratori, che non accetta l'indipendenza dei sindacati e fa sopravvivere solo i sindacati più accomodanti. e quindi c'è una disuguaglianza sostanziale e una disuguaglianza anche di status giuridico. E i tuoi colleghi che vedono nelle rivolte di quegli operai un germe forte di coscienza di classe, secondo me hanno ragione. Nel senso, lì proprio ci sono stati proprio tanti casi in cui, tra l'altro endogenamente, nel senso è stato il processo di sviluppo economico che ha portato queste masse di individui nella fabbrica e nella fabbrica prima compressi, ma hanno iniziato a bollire. Hanno iniziato a bollire con delle rivendicazioni chiaramente, diciamo, di classe. E secondo me lo stesso sta succedendo, benché in maniera ai nostri occhi molto più nascosta, in Cina. Io semmai non sono d'accordo con i tuoi colleghi quando parlano del Global South come se allora ci fosse una coscienza di classe globale o come se potessimo applicare in generale a questo mitico sud del mondo mitico nel senso che non capisco bene che cosa sia diciamo come se potessimo applicare a questo sud del mondo una dimensione di classe così chiara però invece possiamo fare, ho appena detto, in casi specifici, per esempio la Corea, Corea del Sud. E questo mi riporta, io qui, mi riporta alla questione delle equivalenze che dicevi perché se pensiamo per esempio alla Cina che sta crescendo moltissimo e quindi in Cina molti individui, ma davvero centinaia di migliaia di persone stanno almeno formalmente uscendo dalla povertà o comunque hanno visto i loro redditi reali crescere negli ultimi 30-40 anni mentre per esempio i redditi del proletariato europeo occidentale sono rimasti al palo Allora, proprio in virtù di questa differente dinamica c'è chi ha scritto di una crescita di una global middle class Branko Milanovic che, non so se avete visto quella che si chiama la elephant curve comunque fa vedere come nell'ultimo periodo di globalizzazione Gli individui che appartengono alla classe media dei paesi economicamente avanzati non ha visto crescere i propri redditi reali mentre chi ha goduto di questa globalizzazione che poi è una correlazione, non è necessariamente un rapporto causale ma comunque in questo periodo invece sono gli individui che appartengono alla parte bassa della distribuzione del reddito globale che è poi di fatto chi sono le nuove generazioni inurbate di Cina, India eccetera e lì sono cresciuti e quindi si parla di global middle class benché sia una middle class molto diversa dalla nostra sono anche in termini reali molto più poveri di noi anche con un rapporto con la loro cultura di riferimento molto diverso ma detto ciò è interessante perché si prova a tradurre e a immaginare un'equivalenza a livello globale di questa immersione di una classe media che è un esercizio che secondo me funziona solo nel momento in cui ragioniamo dei pil pro capite e allora vediamo queste cose non vale per nulla, non ha sostanza secondo me in termini di più profonda equivalenza come Sandro proponeva e quindi questo Global South non funziona in termini di classe funziona in specifici casi allora questo è un po' quello che io sono riuscito a ricostruire dall'enorme quantità di stimoli poi un'ultima cosa che volevo aggiungere che quando parlavi appunto del fatto che ti ritrovi senza proletari ma anche senza contadini oppure ti trovi con figure che sono a metà o che vivono di entrambe le dimensioni mi hai fatto tornare in mente quel bellissimo libro di Cafagna Dualismo e sviluppo nella storia d'Italia e il fatto che appunto la migrazione stagionale chi lavorava alla cultura del bacco da seta però poi entrava nelle fabbriche nei periodi di pausa del lavoro in campagna e poi però ci ritornava cioè serbatoi elastici che si muovono questa non è una domanda è più un commento mi hai fatto ritornare in mente i miei studi universitari quindi grazie grazie mille e sentiamo se altri hanno da dire o naturalmente se tu vuoi rispondere a ciò che ho detto Bene, grazie, grazie Michele grazie molti anche a te per il contributo insomma davvero credo che anche Sandro avrà diverse cose su cui intervenire però prima chiedo se c'è tra i presenti insomma se c'è qualcuno che vuole già intervenire da ora se ci sono domande, commenti insomma apriamo sicuramente al dibattito anche per i presenti non vedo mani alzate non vedo domande nella chat quindi per il momento quindi allora io do subito la parola a Sandro e poi nel frattempo vediamo c'è una, ho visto una mano alzata scusate ma io sono un po' lenta Carlo, Carlo Fumian prego Carlo puoi anche farti vedere ti vediamo volentieri ho appena trasformato in membro dovrebbe arrivare tra un secondo grazie, grazie Marco no grazie infinite volevo davvero ringraziare sia Alessandro che Michele perché veramente delle bellissime relazioni volevo solo porre un problema così lo butto un po' a tutti o due sono molto convinto della bontà del suggerimento di Alessandro su focalizzarsi su questa cesura tardo-ottocentesca ci sono mille fattori che spingono verso questa proposta anche di periodizzazione anche per quanto riguarda il problema della classe mi chiedevo se non fossimo di fronte un po' ad uno dei tanti paradossi della storia cioè ricordo a tutti gli studi anni 80-90 Pasquale Villani era il precursore degli studi sulla pluriattività in Francia, in Italia, in Germania appunto su queste figure miste eccetera che infrangono le dimensioni più o meno in parallelo con i lavori di carattere di sociologia che riscoprivano le reti e le fluidità interne dei gruppi sociali la domanda è sostanzialmente questa questa ricomposizione questa forma di maggiore pulizia dell'operaio, del contadino, delle figure sociali che si legge a fine ottocento in parallelo con la cosiddetta seconda evoluzione industriale e tutto quello che è stato detto non è per caso anche legato al problema identitario cioè è il leggersi come appartenenti ad una classe che crea la classe più che i processi quindi ci sono delle dinamiche politiche che raccontano e educano questi contadini, questi operai in chiave politica o in chiave statale in chiave nazionale penso a Eugene Weber e all'idea di costruire il contadino francese e renderlo soldato quello che diceva Eugene Weber su quanto fosse essenziale trasformare il contadino in cittadino per garantirsi che poi quando gli dai le armi e lo fai soldato non le usi contro di te sostanzialmente banalizzo non c'è appunto anche questa grande pedagogia politica del socialismo e di altre dottrine che inventa, offre un'immagine della classe a costoro e attraverso cui i cittadini si auto-identificano come classe e il paradosso, la contraddizione è quella come dire alla Bernstein cioè proprio in quegli stessi anni in cui avviene questa definizione abbiamo il primo grande momento storico di fluidità e di mobilità sociale almeno questo per l'Europa naturalmente non esco da questi confini perché poi... ecco è sbagliato ciò che dico oppure questo elemento cioè di auto-identificazione diventa cruciale per leggere le classi scusate sono stato un po' confuso no 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 era chiarissimo Carlo grazie e aggiungo anch'io una osservazione in relazione alla questione della borghesia vale a dire che allora l'impressione io non sono un'esperta quindi dico per intuizione un po' per impressione l'impressione è che gli studi sulla borghesia a un certo punto si fossero molto indeboliti e fossero molto vicini più alla storia culturale che alla storia economica quindi si erano molto si sono per un certo periodo molto soffermati sulla... e allargati alla storia delle rappresentazioni allora visto che prima Sandro ha accennato un libro sorprendente quello sulla global bourgeoisie e mi è sembrato che quando ha detto sorprendente anche Michele avesse annuito quindi vorrei magari che ci sono delle novità è un libro che io non conosco quindi vorrei sapere se diciamo dal punto di vista degli studi sulla borghesia ci sono delle novità importanti negli ultimi anni e penso anche dal punto di vista delle fonti visto che questa diciamo visione della borghesia fondata molto sulla storia delle rappresentazioni evidentemente aveva anche molto orientato l'uso delle fonti quindi chiedo a due persone che invece sono competenti nell'ambito della storia economica che cos'è che c'è di nuovo ecco perché io non ne sono a conoscenza quindi è per ignoranza che pongo questa domanda grazie poi se ci sono altre dunque c'è un intervento di Alberto lo potete leggere lo leggo insomma a voce alta premesso che l'esplosione problematizzazione Alberto Masoero premesso che l'esplosione problematizzazione del concetto di classe suggerita da Sandro mi pare assolutamente salutare chiede a Sandro come vede il destino tra virgolette del concetto di classe più precisamente l'evoluzione del nesso classe status giuridico nell'unione sovietica novecentesca dove in primo luogo la classe coincide formalmente con tutti i cittadini ma in secondo luogo abbiamo gerarchia di consumo vedi il tesseramento definite per legge passaporti interni per i colcosiani differenziazioni regionali di approvvigionamento orti urbani agricoli assegnati formalmente ai lavoratori operai e non operai di una singola impresa circuiti di distribuzione segmentati eccetera tutte cose che Sandro conosce quindi il suo commento anche questa osservazione molto interessante di Alberto poi intanto facciamo un primo giro di interventi e poi se ci sono altri interventi ritorniamo agli altri interventi prego Alessandro e poi Michele grazie mille a tutti per i suggerimenti comincio dalle ultimissime cose sono un po' più rapide Alberto sono 100% d'accordo credo che dovremo rimettere l'unione sovietica nel novecento nella discussione proprio per il legame che tu sottolini particolare di un ritorno dello status molto importante delle ineguaglianze giuridiche in presenza di uguaglianze altrettanto formali in altri campi cioè nel senso che rispetto all'opposizione status contratto puoi avere un'uguaglianza per esempio nell'accesso al diritto di voto ma diseguaglianza formale per accedere a dei beni di consumo legati per esempio all'appartenenza al partito però questo è qualcosa di molto importante che dovremmo tentare di riflettere non dico sempre in chiave global ma come evolvono queste relazioni in occidente nello stesso periodo mi spiego per molti c'è per welfare state un ritorno dello status anche in occidente e in quanto pensionato che ho diritto ad alcune cose non ho nessun contratto in quanto pensionato ma ho diritto ad alcuni servizi è un problema di status c'è un ritorno ma c'è un ritorno importante dal mio punto di vista e forse questo distingue l'Unione Sovietica dall'Europa Occidentale ma anche lo status in Europa Occidentale nel novecento e nell'ottocento io insisto status e mercato coesistono sempre quindi non è vero però ci sono status per ridurre le diseguaglianze e status che accrescono le diseguaglianze ed è questa la differenza buona parte del welfare usa lo status per ridurre le diseguaglianze per esempio tra padroni e lavoratori mentre viceversa nell'ottocento le diseguaglianze di status servivano per accrescere le diseguaglianze di mercato quindi non è tanto il passaggio dallo status al contratto come si dice ma è che tipo di status per che tipo di diseguaglianze le diseguaglianze giuridiche o le guaglianze giuridiche possono essere usate per accrescere o per ridurre le diseguaglianze economiche ed è questo quello che mi interessa cioè con welfare in occidente per alcuni gruppi della popolazione dei diritti giuridici sono utilizzati per ridurre le diseguaglianze non per accrescere viceversa nell'ottocento il contadino o il lavoratore non poteva neanche denunciare il padrone punto e la cosa finiva lì quindi ritengo che questa per me è molto importante far vedere questa coesistenza dei due ma l'impatto diverso sulle diseguaglianze e quindi ci mettiamo dentro anche l'Unione Sovietica come dici te per quali aspetti giuridici passano le diseguaglianze una piccola cosa sulla global bourgeoisie Antonella che hai sollevato e poi passo a Michele e a Carlo allora ho appena scritto mi auguro in un italiano vabbè in una lunga recensione su questa global bourgeoisie allora perché ritorno e perché lo trovo sorprendente perché bourgeoisie in sé è sempre stato accusato dai non europeanisti di essere un termine eurocentrico valido eventualmente per l'Europa ma la borghesia in Cina la borghesia in India esiste o non esiste e per decenni per decenni negli ultimi decenni si preferiva avere ricorso al termine middle class che è molto più neutro classi medie non c'è un problema di autopercezione di coscienza o di ideologia così forte così come associato a borghesia la cosa sorprendente è che i miei amici compreso Oster Hamel hanno messo nel titolo global bourgeoisie e nel sottotitolo classi medie quindi se la camano un po' così e nell'introduzione dicono i due termini sono equivalenti ed è lì dove non sono d'accordo non è che te la cavi così in fretta dire tanto sono la stessa cosa non sono la stessa cosa è come se qui parliamo di lavoratori e di proletari non è che se diciamo sono la stessa cosa se usiamo i due termini non sono la stessa cosa altrimenti non saremo neanche a parlare lì se classe ha senso oppure no allora secondo me queste idee non sono tanto nuove fonti ma è un'idea molto politico che va in questa direzione e penso che sia importante per la storia della storiografia il gruppo di Oster Hamel va in questa direzione dicendo per anni il politically correct consisteva a dire non usiamo le categorie europee per spiegare il non europeo e quindi borghesia non si può usare perfetto oggi il loro argomento è esattamente l'opposto e dicono ma perché non ci possono essere borghesi in Cina o in India che abbiano rivendicazioni del tutto simile ai borghesi europei ed è un tema e un modo che è lo stesso di quello di Pomeranz per la grande divergenza perché i cinesi non sono fatti per il mercato lo sono semplicemente non l'abbiamo visto bene amici storici economici che lavorano sull'Africa oggi mi dicono la stessa cosa per anni abbiamo criticato il Fondo Monetario Internazionale che diceva gli africani si comportano non bene in economia perché non sono razionali tutti gli antropologi per decenni hanno detto smettiamola di usare l'Occidente per spiegare l'Africa ma oggi il politically correct si è rovesciato e si dice perché gli africani non sarebbero capaci di avere un mercato come a Londra se non ce l'hanno è solo per delle istituzioni corrotte per esempio quindi quello che mi interessa sottolineare è che c'è una storiografia global molto politically correct che invece di dire smettiamola di usare i criteri europei per spiegare il resto del mondo dicono ma perché gli indiani non possono essere cosmopolitani o non possono essere orientati al mercato come gli inglesi si è completamente rovesciato ed è in fondo un approccio molto legato secondo me al pensiero unico post 89 però si può discutere quindi questi sono un po' i miei limiti per la global bourgeoisie invece di global middle class cioè c'è una tendenza ideologica dietro molto forte che si presenta come politically correct non so se sia veramente correct ma comunque su questo ci ritorniamo poi invece sugli altri punti allora Carlo io sono del tutto del tutto d'accordo con te ci ritorno al momento bisognerebbe parlare e qui seguo anche Michele ci sono i teorici e abbiamo un po' a posto un po' troppo diciamo gli economisti sociologi e poi gli attori ci sono gli intermediari tra gli uni e gli altri sono i partiti sono le amministrazioni che trasferiscono o non trasferiscono e fanno il ponte tra non so tra Hirschman e delle elite o produttori africani il problema è come funziona questa cosa e su questo seguo perfettamente perfettamente Carlo allora secondo me Michele ci troviamo da un punto di vista ma non da un altro il punto di vista dal quale ci troviamo e ti seguo è che io ho parlato molto di 7-800 come ho detto magari per il 900 hai ragione di tempo su questo però la questione per me resta aperta allora per me classe non è inutilizzabile dappertutto la trovo molto poco utile per capire l'800 o il 700 cioè sposto molto come si dice in avanti nel tempo delle osservazioni che venivano fatte un tempo e si dicevano 700 non c'è classe 800 c'è classe per me 700 800 è molto difficile trovare autopercezioni nozioni di classe tranne per un gruppo molto ridotto lo si diceva prima per la Russia azzarista in realtà è vero pure per l'Inghilterra per la Francia questa è sta cosa su artigiani su altre cose non so proletari oppure c'è la pluriatività per il 900 e proprio per come lo dice Carlo ruolo politico ruolo culturale delle sinistre eccetera la nozione di classe è forse molto più pertinente l'equivalenza diventa molto più importante in occidente ma nel momento in cui il proletario è molto meno proletario grazie proprio al welfare ai sindacati questo non è tanto un paradosso la classe diventa politicamente importante nel momento in cui le condizioni di lavoro migliorano non quando peggiorano che è una cosa per me molto importante nell'epoca del welfare la classe veniva usata come strumento politico a difesa dei lavoratori ed era il momento in cui i lavoratori miglioravano le proprie condizioni in occidente non è un caso che oggi la nozione di classe crolla ma non perché le condizioni stanno migliorando perché le condizioni stanno peggiorando di nuovo se si guarda al modo in cui viene smantellato il welfare attualmente quindi diciamo queste interazioni per me sono importanti ma bisognerebbe vederle non come le si vede sempre quindi a questo punto di vista non so se Carlo l'ha pensato allo stesso modo ma la vedevo piuttosto così ecco c'è un paradosso ma che non è un paradosso quindi Michele sono d'accordo con te sicuramente per il novecento io conosco molto meno la mia impressione è che in occidente classe funzioni non sono convinto che funzioni al di fuori dell'occidente quando diciamo le equivalenze sono d'accordo che Gershon con gli altri non studiano classe però quando dicono si può spiegare questo aspetto eccetera perché manca una borghesia è un argomento molto forte e l'assenza di una cosa che si chiama borghesia che mi consente di spiegare per esempio che lo Stato intervenga come fattore sostitutivo la teoria di Gershon si basa non su una teorizzazione della borghesia ma sull'uso della nozione di borghesia per spiegare che interviene lo Stato questa cosa è vera non è vera secondo me in parte allora ha aiutato a uscire dal determinismo questo sicuramente storico non so se fosse vera per la Russia cioè spiegare la Russia e la Cina che mancava una borghesia visto che non so come dirti magari mancava pure altrove quindi non è quello per me il punto rilevante ma non è la cosa più importante la cosa più importante per me è quanto questi schemi ed è forse lì che siamo più in disaccordo funzionano per l'Africa per l'Asia e per l'America Latina tu sei un po' più ottimista di me ecco per me funziona molto più classe per l'Europa occidentale che non per i paesi coloniali e postcoloniali per i quali sei un po' più ottimista ma io dico non è un caso che Chakrabarti e gli altri se la siano presi con questi modelli per dire non funzionano non rispettano affatto l'India se la sono presi a morte tra marxisti però una lotta tra marxisti indiani per dire non è affatto vero quello che dicono gli altri marxisti ed è vero quello che dico io Marx in India e le classi non funzionano e non è un caso quando lavoro allora ho lavorato negli ultimi anni poi la smetto con alcune NGO in India che lottavano per le condizioni dei lavoratori ed erano tutti d'accordo sulla faccenda del ritorno delle classi e del proletariato Global South il problema è che i lavoratori indiani quelli che sono indicati anche oggi eccetera che facevano gli scioperi non so se si consideravano come una classe lavoratrice proletaria loro lottavano per avere innanzitutto i loro salari perché spesso i padroni li trattengono per due mesi tre mesi perché tanto questi se no si ubriacano e quindi li spendono e quindi te li conservo io e magari puoi anche comprare come si faceva in Europa in precedenza quello che vendo io come beni di consumo così recupero il salario che nel frattempo ti ho trattenuto loro hanno lottato molto per avere i salari quando invece gli hanno proposto un welfare hanno detto no con grande stupore dei miei amici e perché hanno detto no? per un motivo molto semplice perché hanno detto il welfare ci obbliga ad avere una residenza non puoi avere pluriatività con il welfare devi dichiarare dove sei e la cosa finisce lì però dice facendo in questo modo io perdo la pluriatività mi obbliga a stare in un solo posto e in cambio mi dai un welfare che in realtà non funziona perché i servizi sociali ce li promettono sulla carta ma di fatto non li abbiamo e lì diventa un vero problema nel senso che il welfare è per me un problema doppio come viaggia il welfare al di fuori dall'Europa e due per me è una cosa da cui tengo molto c'è il welfare teorico i diritti che diamo e ci contiamo tutti e poi c'è il welfare pratico come faccio affinché i fondi destinati agli ospedali siano veramente utilizzati agli ospedali e da tutti e questo è un vero problema che si pone altrove quindi il welfare in concreto è una vera lotta se dopo c'è una lotta di classe non lo so perché loro non si sentono né non si sentono classe operaia ci tengono alla loro pluriatività e siamo in pieno ventesimo secolo e il mio dubbio così la lancio lì è che se devo riassumere anche le tue osservazioni o le altre ho l'impressione che classe senza opporre teorie pratiche a me non piace opporre le due cioè nel senso che alcuni che teorizzano in fondo hanno un effetto dialogano con amministrazioni con sindacati insomma questa opposizione teoria pratica trova il tempo che trova ma ho l'impressione che classe funzioni molto bene per l'occidente fordista e funziona molto male in altre situazioni cioè è proprio nell'occidente fordista che classe sindacati anche per il lavoro anche per il modo in cui viene presentato il movimento operaio eccetera la classe ha un senso ha un senso identitario ha un senso concreto nell'ottocento non ce l'ha nel resto del mondo ce n'ha poco e oggi con il crollo del welfare anche in occidente con la crisi del posto stabile a vita e col ritorno della pluriatività mi chiedo quanto resti e non è un caso della nozione di classe nelle identità degli attori stessi proprio perché c'è un ritorno del precariato e della pluriatività insomma secondo me Marx aveva avuto una buona intenzione legando la classe al un certo al proletariato e a un lavoro identificato in quanto tale con la pluriatività non funziona e quindi in qualche modo buona parte del ventesimo va bene ma in occidente per il resto non lo so e lo lascio aperto Michele ti cedo la strona e allora e io credo voglio dire di sicuro ci siamo un po' in parte almeno spartiti i secoli mettiamola così con atteggiamento molto imperialista tu ti sei preso 7-800 io il 900 io non sono ecco ho due obiezioni una è proprio su tornando su Gershankron soprattutto la questione lì è l'accumulazione del capitale non è chi lo accumula quindi non è la borghesia e se non c'è la borghesia arriva allo Stato e se non c'è arrivano le banche e se non ci sono le banche arriva allo Stato è diciamo a prescindere da quello quindi io proprio lo toglierei perché secondo me crea confusione lo toglierei dal quadro per quanto riguarda invece la questione se ha senso utilizzare questo concetto di classe in parte francamente sono problemi nostri che non diciamo che gli altri potrebbero tranquillamente annoiarsi e avrebbero ragione però adesso sta succedendo qualche cosa di il problema ecco mettiamola così il problema che io vedo nella tua ricostruzione di queste o nell'utilizzo di queste categorie e nella ricostruzione e come le applichi alla ricostruzione storica è che o c'è una grande attenzione al particolare locale cioè quindi tu dici no è Europa anzi è Europa nel novecento non anzi è Francia è Gran Bretagna è Germania quindi quindi molta contestualizzazione bene meno male nel senso siamo totalmente d'accordo molta istoricizzazione del problema oppure se no con la grande generalizzazione che secondo me è eccessiva la grande generalizzazione del fatto no funziona in Europa e dunque non funziona dalle altre parti e io invece continuerei a andare a guardare caso per caso perché ci sono certi casi in cui non c'è verso soprattutto tra l'altro dove si si vede la crescita dell'industria e quindi una separazione anche proprio di ruoli in manzioni molto pratica e anche di ruoli nella proprietà di tante cose non solo dei capitali finanziari ma anche di conoscenza eccetera eccetera e lì in un qualche modo poi ci sono la classe non è uguale da tutte le parti però è un concetto che inizia a farci vedere una segmentazione a farci interpretare una segmentazione che è utile e dagli anni 90 in avanti tra l'altro i processi di produzione globale stanno cambiando moltissimo e adesso si discute moltissimo delle nuove catene globali del valore e del fatto che noi non produciamo tu dicevi prima la classe funzionava per il modello fordista quello è saltato per aria adesso noi produciamo beni che vengono assemblati un po' da una parte poi viaggiano in container poi vengono finiti di essere assemblati da un'altra parte ancora vengono disegnati e pubblicizzati con uffici che hanno sedi a New York Singapore e Milano ok e questo ha mandato per aria il modello fordista però ha ridistribuito diciamo una forma di segmentazione di partecipazione di chi partecipa ai processi di produzione a livello se non mi piace la parola globale comunque a livello internazionale e e ciò vuol dire che i proletari o comunque i lavoratori colletti blu che prima stavano tutti a Detroit e se li volevamo trovare andavamo lì e li vedevamo adesso stanno sparpagliati da altre parti e secondo me la cosa interessante che e forse qui il concetto di classe aiuta perché aiuta a spiegare sia la segmentazione sia la dimensione di conflitto è che quella che nasce attraverso da una redistribuzione delle mansioni delle segmentazioni nelle produzioni globali viene interpretata da chi la vive sulla propria pelle per esempio dagli operai di Detroit come un conflitto nazionalistico i cinesi ci rubano il lavoro o i messicani ce lo vogliono venire insomma e questo e finisco su questo ha un sapore enormemente novecentesco se pensiamo al fallimento dell'internazionalismo operaio nel novecento si sta in una forma nuova ma mi chiedo non si sta un po' ripetendo questo c'è una nuova segmentazione del lavoro sta facendo emergere una classe di lavoratori di umili mansioni poco non qualificati che di fatto e questo in parte è vero hanno portato via hanno fatto sì che il lavoro venisse trasferito da alcune regioni ad altre e questo sta creando conflitti che però vengono interpretati non come questioni di classe anche se in fondo lo sono perché sono dovute anche al fatto che non sta crescendo il reddito di questi nuove io chiamerei classi nei paesi in via di sviluppo viene compresso il loro reddito la loro capacità di consumo la loro capacità anche oltre alla loro possibilità di partecipazione politica inclusione welfare eccetera è ancora tutto compresso e viene eletta in forma di conflitto nazionalistico grazie Michele chiedo se ci sono altre persone che vogliono intervenire sia in modalità chat che in modalità in presenza Antonella se non c'è nessuno mi prendo il privilegio del commentato organizzatore è una domanda per entrambi un commento domanda per entrambi che si lega un po' è molto contemporaneistica Alessandro che l'anticipo però si lega a un punto che hai toccato durante la tua relazione e cioè la questione del cittadino consumatore e dei diritti dei consumatori io guardo al caso ovviamente statunitense che un po' anticipa gli altri soprattutto negli anni settanta i diritti dei consumatori diventano priorità pensiamo al Volcker Shock pensiamo agli alti tassi e vengono prima dei diventano elemento identitario e di definizione dei diritti prima e sopra i diritti dei lavoratori tant'è che centri studio conservatori penso alla Heritage nel loro contestare le letture alla Milanovic o alla Lassevic sulla disegualianza utilizzano la capacità di consumo come la quantità di televisori metri quadri delle abitazioni e così via come dimostrazione che non vi è una crescita della disegualianza ovvero quella disegualianza misurata in termini di reddito offre una forma di valutazione molto parziale e allora quello che ti chiedo e vi chiedo e si lega un po' anche all'ultima considerazione di Michele sulle catene globali e transnazionali del valore che in fondo hanno un terminale il terminale siamo noi consumatori dei paesi ricchi ecco come questa non è solo società di consumi di massa ma società dei diritti dei cittadini consumatori ovvero del diritto al consumo dell'accesso al consumo è un elemento centrale del diritto di cittadinanza come stravolge radicalmente un'idea consolidata di quel che le classi sono e di come le classi vadano definite ecco di nuovo una professione molto molto presentista se voi andate sulla pagina della Brookings Institution su come definire oggi la working class in America e ci sono mille e diversi modi per definirla ecco questa è la domanda che vi butto là mi rendo conto è una domanda molto ampia però tocca elementi toccare elementi su cui vi siete soffermati entrambi vabbè attacco allora ma sicuramente l'avevo un po' abbozzato a questo punto il passaggio da una sa questo famoso libro del Consumers Republic per dire la fine delle classi e l'arrivo dei consumatori come vero criterio per spiegare la società che è una svolta secondo me molto importante ideologicamente molto orientata non ci sono più classi quello che ci interessa è il consumatore e non è un caso che viene fuori dagli Stati Uniti allora i Consumer Studies sono un po' diverse delle Global Chain of Value la misura in cui quelli che studiano le Global Chain of Value si interessano soprattutto magari ai lavoratori in Thailandia che producono poi le Nike e via dicendo e poi c'è il consumo alla fine però l'accento è messo molto sui produttori allora il consumatore e i suoi diritti non è un caso che il termine class interviene non per dire la classe dei consumatori ma per parlare delle class action che sostituisce la lotta di classe cioè facciamo un confronto giuridico per classe che è un'evoluzione veramente sintomatica per spiegare le diseguaglianze unicamente in termini di accesso al consumo che è una cosa che mi aveva interessato a un certo punto ma che oggi utilizzo in realtà per criticare una cosa che è vera in Stati Uniti ma anche in Europa questo accento messo sul consumo ma che di fatto va come diceva Michele va anche lui in una direzione secondo me molto nazionalistica come reazione al global cioè che siano i sindacati a difesa del welfare le associazioni di consumatori a difesa del potere di acquisto in entrambi i casi si assiste secondo me proprio in reazione alla globalizzazione degli ultimi vent'anni ad un ritorno del nazionalismo nel consumo difendiamo il prodotto made in e che purtroppo è associato ad una difesa secondo me questo è il mio punto con Michele ad una difesa nazionalistica del lavoro nazionale contro quello degli altri e il mio punto è proprio quello cioè la mia critica attuale cioè Michele sono d'accordo con te sicuramente sbaglio a dire classe non va bene fuori e via dicendo dappertutto come hai detto te sono del cento per cento d'accordo non va bene in India magari va bene nell'Asia orientale va tutto bene il mio problema è cosa ci guadagniamo noi e cosa ci guadagnano loro a ricorrere al termine di classe per spiegare quello che succede oggi è un problema per me che si pone a cui non so rispondere ho provato a farlo per esempio per schiavi quando uno usa il termine schiavo e fermo subito la parentesi chi ci guadagna e chi ci perde è usato da alcune associazioni altre no ma questa stessa cosa è stata fatta anche nel settecento ottocento e per andare al di là delle opposizioni tra rappresentazioni e pratiche ci sono associazioni che sono il termine schiavo per avere un certo obiettivo hanno un obiettivo in mente e ce ne sono altre che non lo usano per un certo obiettivo esempio in pieno ottocento le associazioni di lavoratori dicevano il vero schiavo è il proletario smettetela di parlare degli africani in america perché dovete innanzitutto pensare erano assolutamente in conflitto con il movimento abolizionista molti movimenti operai così come succede oggi e secondo me il vero problema la vera biforcazione in questo nazionalismo welfare è stato legato al momento stesso della nascita del welfare in ottocento primi novecento quando si è deciso che lo stato sociale fosse qualcosa per i residenti nel cuore in Europa ma non è stesso ai lavoratori delle colonie e questa cosa è rimasta fino alla decolonizzazione arriva fino ad oggi ed è per questo motivo che l'internazionale una volta che si globalizza non funziona perché il lavoro di quelli che sono visti come altri è messo in opposizione alla difesa del lavoro nazionale questo purtroppo dal mio punto di vista se dobbiamo entrare nell'oggi non solo dalla destra ma anche dalla sinistra ed è quello per me il vero punto delicato è il ritorno del nazionalismo all'interno stesso delle sinistre e dei movimenti sindacali che vedono anch'esse l'immigrato come un problema per la difesa del lavoratore nazionale e quello per me resta un vero punto non è un caso e su questo chiudo ma è un caso che oggi quando si parla di internazionale di identità autoidentità a livello internazionale funziona molto meglio per qualcosa che sicuramente non esiste ma che alla fine fanno esistere l'internazionale campesino funziona molto di più dell'internazionale dei proletari e questo cioè i sindacati dei lavoratori sono molto più orientati nazionalmente vedi anche in ostilità agli immigrati rispetto a come si stanno organizzando associazioni internazionali di cosiddetti contadini campesinos con tutti i limiti che hanno perché poi vanno da Giuseppe Ovea insomma mettiamo da parte il modo in cui vedono il mondo però questi in qualche modo trovano un nesso internazionale che i sindacati operai lavoratori non trovano e secondo me è importante chiedersi perché non ho la risposta la lascio agli ultracontemporaneisti ma non so perché questi che si appoggiano sui contadini oggi ci riescono e pensano alle come dici tu alle global chain soprattutto ai prodotti agricoli funziona benissimo questa faccenda il global mais il global wheat tutte queste cose così ma non funziona viceversa per gli altri lavoratori forse questo però lì mi fermo perché è veramente ultracontemporaneo ma per me è un vero problema aperto apertissimo magari Michele mi sa rispondere no tanto non 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 so ma grazie Mario per la domanda anche sulla questione del consumo io su questo non cioè non c'è di sicuro il tempo adesso per aprire tutto questo io sarei un po' meno presentista su questo sulla questione anche dell'analisi del consumo perché proprio tornando all'America che molto giustamente indicavi come il luogo dove si può più facilmente studiare questo nell'ultimo anno del diciannovesimo secolo viene pubblicata la teoria della classe opulenta come the theory of leisure class leisure infatti non mi veniva in italiano scusate se ho fatto in che è una teoria tutta basata sulla sull'analisi culturale del consumo negli Stati Uniti e ne fa vedere come si sia già stratificato organizzato piramidalmente cioè non una cosa nuova siamo ancora nel diciamo a metà ottocento in Europa Marx si sta ancora interrogando nella tradizione classica su la teoria del valore e quindi diciamo si interroga di che cos'è al cuore della produzione no? 40 anni dopo Veblen sta parlando di consumo e di consumo non come di una novità ma di consumo come di una cosa che è già totalmente internalizzata da parte della società americana quindi la cosa diciamo la cosa che mi viene da dire è non sarei tanto presentista mi muoverei più indietro e la seconda cosa che Veblen ci fa vedere è il ruolo fondamentale dell'analisi della cultura del consumo quindi Antonella prima diceva ma forse per un periodo gli studi sulla borghesia sono stati un po' in ritirata o si sono rattrappiti su una visione culturale su un'analisi culturale invece che economica e io non so se è un rattrappimento un ritirarsi forse io devo diciamo forse quello che ci possono dare ancora in termini di spunti per interpretare diverse società non solo quelle europee è qual è la specifica cultura di gruppi che si ritengono e qui spero di riuscire a usare un vocabolario stanzaniano stanzianiano in maniera corretta quelli che si ritengono e che si vedono e che si percepiscono borghesi attraverso manifestazioni prima di tutto diciamo o un'identità prima di tutto culturale grazie 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 molto Michele sto osservando se ci sono altri Ferdinando Fasce prego se vuoi ti possiamo mettere in video quindi Marco Sì, sta arrivando. Perfetto, grazie. Bene, non mi si vede, ma forse mi si vede. Va bene, vado molto rapido. Io ho molto apprezzato questa discussione dalla quale ho imparato molto, perché come sempre, quando ci sono di mezzo Stanziani e Alacevic, si impara molto. E quindi sono davvero molto grato. E sono molto grato a Sandro Stanziani per questa dimensione straordinariamente ampia, sia sul piano spaziale che su quello temporale, interperiodale e su più aree. La mia osservazione riguarda però una cosa molto specifica, che è quella della Consumer's Republic. Cioè, Consumer's Republic è un libro scritto da una storica del lavoro, che non è che abbandoni la dimensione del lavoro e la dimensione di classe, ma anzi ricostruisce, secondo il mio modo di vedere, con grande capacità intuitiva. E sulla sua strada poi sono mostri altri e altri invece avevano cominciato già prima, come dire, il nesso tra produzione e consumo, cioè i lavoratori e consumatori e le due dimensioni. E mostra anche, mi pare molto bene, come quello che abbiamo negli anni 50 o degli anni 50 e 60 e poi, cioè una sconfitta pesante, è una sconfitta di classe. Cioè, come i lavoratori provano a fare anche i consumatori e organizzarsi anche come consumatori negli anni 30 e vengono sconfitti più o meno attorno alla Seconda Guerra Mondiale e poi nel dopoguerra. Su questa linea, vado rapido perché ne so tantissimo, però su questa linea l'honest Glickman ha suggerito addirittura una ricostruzione persino eccessiva di tutta la storia del mondo del lavoro come storia anche di consumo. Ma qui, banalmente, io ho fatto un po' di ricerche sui sigarai degli anni 80 e dell'Ottocento a Saguenot, Michigan. Questi si percepivano contemporaneamente come lavoratori ma anche come consumatori perché gestivano il mercato locale. Allora mi chiedo se questo non debba essere reincorporato in questa storia, cioè nella storia delle dinamiche di classe l'intreccio che in un certo senso, diciamo la verità, sono gli studiosi che hanno creato la separazione. La gente spesso, credo, nel corso del tempo si è percepita e ha agito sia come lavoratori che come consumatori e travolta poi drammaticamente ha visto, e voi l'avevate addombrato, la contraddizione in sé tra lavoratori e consumatori. Ecco, questa... grazie per... Grazie molto per l'intervento, grazie davvero. Beh, forse questa volta posso andare velocemente io perché innanzitutto ne approfitto per salutare Nando che è troppo tempo che non vedo di persona. E grazie per l'intervento, io sarò brevissimo perché sono totalmente d'accordo, davvero totalmente d'accordo su questo, rispetto a questa sottolineatura di riunire queste due linee d'analisi che se no sono artificiose in termini... nella loro separatezza e anche lì la cultura di questi gruppi chiaramente ci spiega molto, insomma, in termini di una visione unitaria che poi gli individui hanno nel vivere la propria vita. Quindi questa è una letteratura che tu giustamente hai menzionato e ci aiuta moltissimo. Credo anche comunque che i corpi intermedi che Sandro... adesso magari ti sto rubando un'idea, Sandro, ma è proprio tua, ma i corpi intermedi che tu menzionavi prima, tra gli studiosi, gli scienziati sociali e la classe o i lavoratori, sono poi un'altra manifestazione di questo perché poi è all'interno di questi corpi intermedi che spesso si vedono entrambe le culture, adesso semplificando, del consumatore e del produttore. Cioè poi rappresentano magari specifici interessi, ma sono ben più sofisticati di questo, cioè sono ben più profondi, hanno ben più tridimensionali. Quindi grazie Nando e così posso anche lasciare l'ultima parola, come giusto che sia, a Sandro. Molto breve, sono d'accordo anch'io. Due cose. Prima, Consumers Republic, l'importanza in questo testo di mostrare il passaggio da una percezione, autopercezione, organizzazione, della società americana in termini di classe, lavora ad una verso il consumo. Questo del tutto d'accordo e il fatto che si sia perso poi nei lavori successivi, o si lavora sul consumo oppure sul lavoro. Sono d'accordo evidentemente sul fatto che un lavoratore si vede anche come consumatore, non c'è proprio dubbio. L'unica cosa che io volevo aggiungere era proprio questo, come l'avevo detto. Le identità multiple non le vorrei vedere come una lista o come giusto ogni persona ha molteplici identità, poi si fa al lavoratore e via dicendo. Ecco, io preferirei vedere come si ordinano gerarchicamente, nel senso in cui, ad esempio, se prendiamo solo come lavoratore e come consumatore, banalmente si dice se non lavoro non consumo neanche. Ci sono società in cui, non è così, in cui la relazione di dipendenza al lavoro e quella di dipendenza al consumo sono organizzate diversamente. Ecco, a me, piuttosto che dire lavoro e consumo intervengono tutti, lì siamo tutti d'accordo, in concreto la gerarchia tra i due e come si organizzano le gerarchie sociali, con consumo e lavoro, come funzionano in società diverse. Cioè non sono la stessa cosa Maurizius, per me, nel 1940 e Milano, nel 1920. Il problema è perché, oppure l'Unione Sovietica. Che appunto ci sono gerarchie nel consumo, per esempio in Unione Sovietica, come lo diceva Alberto, che passano per alcune cose che non esistono altrove o in altri momenti. Quindi quello che mi interessa è molteplicità di gerarchie, molteplicità di identità, sono d'accordo, però non in modo piatto. Ecco, non alla guidance, non mi piace questo dire siamo un po' tutto. Va benissimo, oppure io sono napoletano, sono studente, poi dice sono tifoso del Bari, che ne so, insomma, va bene. Però alcune forme identitarie sono molto più strutturanti e condizionano le altre. E' quello che penso sia importante mostrare. Se posso dire, sono anch'io d'accordo. Non sono un chitrensiano neanch'io. Ecco. Antonella, visto che andiamo alla conclusione, da rilanciare, ora ho un'altra conversazione. Io non sono d'accordo invece con Nando e con Michele. C'è una rottura forte, credo, negli anni settanta e nel novecento, che si lega a processi di integrazione globale, si lega a deregulation nel settore bancario e creditizio, si lega a un'esplosione, parlo del caso statunitense, di consumi a debito di prodotti, prodotti altrove importati negli Stati Uniti che cambiano radicalmente in termini dell'equazione del rapporto tra consumo e produzione e tra classi e consumatori, diciamo così. Credo che lì la discontinuità sia marcata, la rottura ci sia e che guardare, diciamo così, fino a ottocento, agli anni venti e trenta ci aiuta fino a un certo punto. Però ecco, è una discussione aperta per un altro webinar, sì, scontanella. Scusate. No, hai fatto bene a dirlo, nel senso che questo era l'ultimo incontro del nostro piccolo ciclo sulle parole della storia, ma naturalmente mi pare che quello che sia il risultato sia che ci sono molte questioni aperte e tantissimi argomenti davvero da sviluppare. Io vi ringrazio tutti quanti a nome della Cisco, naturalmente, a nome del comitato organizzatore, questo piccolissimo comitato scientifico e personalmente ho imparato tantissimo dalla discussione di oggi, quindi davvero vi sono molto molto grata, è stato molto utile per una persona così digiuna di questi argomenti come è la sottoscritta. Grazie a te e grazie a voi, Antonella. Quindi davvero grazie a tutti i presenti, a coloro che hanno resistito fino a questo momento, è stata una lunga discussione, io spero davvero che insomma il piccolo comitato organizzatore sicuramente si riunirà per vedere come sviluppare tutte le cose che sono state dette e che lo meritano. Grazie davvero a tutti quanti e spero a presto. A presto e anche di persona. Grazie a te e un piccolo ringraziamento a Marco Aterrano, Federico Mazzini che per conto della Cisco hanno gestito e organizzato tutto quanto. Certo. Grazie, grazie a voi. Molto e grazie davvero. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci. A presto. Grazie. Grazie.